ciao a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi è il 15 di ottobre e sono a polcenigo per le giornate fai d'autunno io parteciperò ad un piccolo tour organizzato dagli instagramers e appunto ho pensato di portarvi anche un video oltre alle foto quindi vediamo ciao a 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 l'esperienza è assolutamente approvata nel senso che comunque sia con le giornate del file sia quella a cui ho partecipato io che è quella d'autunno sia quella che viene fatta in primavera avete la possibilità di vedere cose che generalmente non sono aperte al pubblico quindi in questo caso c'era una casa privata o un edificio che è in fase di restauro proprio comunque siamo riusciti ad entrare a vedere parte delle cose e soprattutto l'esperienza è assolutamente positiva perché con un piccolissimo contributo potete accedere appunto a questi luoghi e anche con delle visite guidate quindi assolutamente positiva l'esperienza consigliatissimo se venite in Friuli un saldo a Polcegnico poi ovviamente noi abbiamo visto soltanto una parte delle cose che ci sono da vedere a Polcegnico poi in base a quello che volete fare vi posso dire che vicino a Polcegnico c'è il parco di San Floriano anche quello meriterebbe un video a sé ci sono anche le sorgenti del Gorgazzo quindi anche lì veramente posti molto belli io spero comunque che questo video vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like come al solito e condividetelo con i vostri amici se avete qualche curiosità e merito lasciate un commento qui sotto vi ricordo che sempre qui sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social di cui seguirmi al di fuori dei video noi ci vediamo al prossimo video e vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie